Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo a che non si spegne il pc ovviamente se noi andiamo direttamente su esegui, esegui sistema, su esegui scrivi powercfg.c, p,l, fai ok, ti porterà sulla schedina di opzioni risparmio energia e ovviamente se io ho un pc fisso e non ho problemi riguardo allo spegnimento del pc quindi io vado direttamente qua sopra e faccio arresta il sistema e si spegne senza problemi per quelli che hanno problemi a spegnerlo se vai su specifica comportamento bursante di alimentazione se in questo caso non riesce a spegnersi direttamente qua sopra su arresta il sistema puoi direttamente spegnerlo sul pulsante tipo quando viene premuto il pulsante di alimentazione c'è scritto arresta il sistema oppure c'è scritto non intervenire perché se c'è scritto non intervenire tu premi il pulsante sul tuo computer sul tuo portatile non si spegne quando viene premuto il pulsante sospensione si sospende in questo caso come puoi vedere impostazioni di arresta invece è scritto solamente sospensione e blocco voi dovete togliere la spunta la prima opzione che non è questa sospensione è questa qua ok che questa opzione aiuta così il pc ad avviarsi senza nessun problema quando vai poi a riavviare il tuo computer quindi togli la prima spunta se non dovesse funzionare passiamo direttamente al secondo metodo che sarebbe cmd il prompt dei comandi esegui come amministratore una volta eseguito come amministratore il prompt dei comandi vai a scrivere power cfg spazio h spazio off disattivi direttamente il comportamento della schedina dell'opzione di risparmio energia una volta fatto chiudi qua e riavvia il tuo sistema se in questo caso non dovesse arrestarsi puoi riavviare il sistema una volta riavviato di nuovo sul desktop e fai arresta il sistema e vedi se puoi spegnerlo su arresta il sistema quindi chiude tutte le app e spegne il pc se hai problemi con il pulsante ad arrestare così il computer commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao